I sindaci del territorio aspettavano Enrico Rossi, che è successo? Grande delusione. In effetti era annunciata la sua assenza e perché l'aveva dichiarato pubblicamente, è quasi stupito che un'assemblea di sindaci che per ora rappresentano tanti cittadini non l'avessero convocato ma l'avessero invitato ad essere presente alla nostra assemblea zonale allargata delle tre zone, oggi Zonona, Distretto, Arezzo, Valtiberine e Casentino. Non è potuto venire perché aveva altri impegni e quindi abbiamo concordato con il suo capo di gabinetto una data alternativa, andremo noi a trovarlo a Firenze venerdì 7, quindi la data è stata fissata. Tenete conto che il 30 di settembre è il termine ultimo, a meno che non venga posticipato per la scelta tra Società della Salute e Convenzione. Le posizioni sono distinte, quindi riuscire a fare una decisione comune fra queste tre zone con il peso che ha la zona retina comporterebbe inevitabilmente l'assunzione di una decisione che per alcuni è penalizzante e non lo riteniamo corretto. Per poter arrivare a una scelta corretta occorre riseparare ciò che improvvidamente è stato accorpato. Di questo parleremo venerdì pomeriggio, io ho chiesto ai sindaci di accompagnarmi, oggi partirà una mia lettera a tutti i sindaci delle tre zone per dare più peso a questa nostra presenza in regione con il Presidente Rossi che ci ha dato disponibilità a breve di fare questa chiacchierata, ma noi speriamo che sia più che una chiacchierata sia un impegno preso dal Presidente. A quel punto la sua parola vale quanto una legge, quindi io mi auguro che se lui sarà in grado di sciogliere la riserva staremo finalmente tutti un pochino più tranquilli perché oggettivamente si rischia di perdere delle risorse se si rimane in questo stato di limbo in cui purtroppo questo meccanismo amministrativo di accorpamento ci ha portato.